io prossimo upgrade che faccio alla squadra sono a natale mi prendo bene e the riff cantè e volevo prendere i dicimi ma ma il f***o bocca a manta non stare con me voglio un minuto di recuperare chi stessi segna da 4 minuti e 35 ma che cazzo ne ho copre non vuoi un minuto di recuperare chi stessi segna da 4 minuti e 35 mamma mia 4 minuti e 35 ma che cazzo è vaffanculo voi a voi oh ristruto vaffanculo marziale vaffanculo e che da mangi pulpetta